Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 7 novembre. Prima di parlare del Milan che oggi effettuerà l'allenamento di rifinitura perché si è giocato l'altro ieri e si gioca già domani sera. Prima di parlare un commento ai risultati del derby di Roma, il match tra Juventus e Inter, lasciatemi aprire con una nota un po' malinconica perché ieri è scomparso uno dei grandi giocatori del Milan, Carletto Galli. Carletto Galli ha 91 anni, ecco questo è un antenato di Forza Milan, me lo regalò mio padre, è uscito nel 1959, Milan 7 bello, perché il Milan aveva appena vinto il settimo scudetto. Qua gli eroi e questo è Carletto Galli, Lidon il capitano. Eccolo qua, questa è la formazione del Milan, Carletto Galli lo vedete qua, eccolo qua, un po' defilato e ve lo mostro anche nel libro Sempre Milan, eccolo qua Carletto Galli. Carletto Galli ha una, eccolo, tra Schiaffino e Cucchiaroni. Carletto Galli è andato vicino a battere un record storico, perché Silvio Piola nel 1933 aveva segnato sei gol, sei gol in una sola partita ed è, credo ancora oggi, un record imbattuto. Ebbene il 13 aprile nel 1958 il Milan battè 6 a 1 la Lazio sotto una pioggia battente e Carletto Galli in quella partita segnò cinque gol. Il quinto al minuto 50 aveva tutto un tempo praticamente per, diciamo, entrare anche lui nella storia, eguagliando il record di Silvio Piola. Ma quando mancava poco alla fine del match, si trovò solo davanti al portiere, tirò a colpo sicuro, ma una pozzanghera, allora San Siro non aveva l'erba mista come oggi, una pozzanghera bloccò il pallone sulla linea di porta. Poi la difesa della Lazio salvò e per pochi centimetri Carletto Galli, un giocatore che veniva chiamato Testina d'Oro perché era uno specialista dei colpi di testa, per pochi centimetri non entrò nella storia. Questo il mio ricordo di Carletto Galli. Signori, Milano oggi prepara la partita per la partita di domani sera a Cremona per tentare di arrivare a 32 punti e poi l'ultimo ostacolo arrivare ai 35, che vorrebbe dire eguagliare i punti della scorsa stagione. L'abbiamo detto più di una volta, scusate se mi ripeto, ma è meglio ricordarlo. Poi Napoli è avanti, però dietro, dietro, incominciano ad allungarsi. Perché? Perché la Roma ha perso e dunque rimane a 4 punti. Si è avvicinata solo la Lazio che va a 2 punti, ma non dobbiamo dimenticare che quando il Milan giocherà con la Fiorentina, partita tutta da vincere ovviamente, per il valore della Fiorentina che ha vinto, che sta tornando ieri abbattuto facile alla Sampdoria, ma allungato sulla Roma, dicevo, allungato sull'Inter, che rimane a 24 perché ha perso dalla Juventus che è rimasta a 4 punti. Ma c'è, ripeto, Juventus-Lazio, altra partita che facilita diciamo le squadre non coinvolte in questi scontri diretti e hanno altre tipologie di partita, perché la Fiorentina è dietro, anche se è un avversario molto rispettabile che ricordiamo nel momento più bello del Milan della scorsa stagione, batte grazie alla parata dello scudetto di Mignan e al gol, dopo l'errore del portiere della Fiorentina, con Leao che prese il pallone e riuscì a batterlo praticamente quasi davanti a lui. Quindi si allungano le rivali, rimane Milano è secondo, due punti su Atalanta e Lazio. Direi tutto molto bene. Il Milan ha sbagliato una partita, non ha sbagliato l'altra sconfitta con Napoli, dove secondo me il pareggio era abbondantemente meritato, ma il Napoli, ripeto più di una volta, non ha rubato niente, ci sta nella dialettica di una partita. Ebbene, dicevo ha sbagliato solo una partita e sono convinto e vi dico che sono nel vero, sono convinto di essere nel vero, la testa era troppo su Milan-Salisburgo, la partita che non si poteva sbagliare. Sono i particolari magari nell'allenamento, magari nella formazione, nella preparazione della partita, sono dei particolari. Ormai, come dicono i grandi, le partite vengono decise dai dettagli e il Milan è attento ai dettagli, contro il Torino non è stato forse attento ai dettagli, posto che per battere il Torino bisogna essere sempre massimamente concentrati, anche se il Torino compie l'impresa col Milan, ma poi perde ieri con il Bologna, pur in vantaggio per 1-0. Quindi ecco perché la partita con la Cremonese è un'altra partita che assume una grande importanza, perché in questo momento del campionato non si possono perdere punti, non tanto per stare vicino al Napoli, ma proprio perché psicologicamente domenica prossima non c'è solo Juventus-Lazio, c'è Napoli-Udinese, parlo di domenica prossima perché ci sono gli scontri diretti, ma c'è anche Atalanta-Inter. Quindi è un'altra domenica dove il Milan che gioca in casa deve riuscire a concentrarsi e approfittarne per posizionarsi bene per la volata finale. Diciamo volata finale da gennaio, gennaio-febbraio-marzo quando arrivano le Coppe, c'è la Coppa Italia, lì conta la rosa, conta la concentrazione, conta tutto. Non dobbiamo dimenticare che in quel mese il Milan affronta la Roma in casa, la Lazio fuori e poi ai primi di febbraio l'Inter. Quindi però partendo da un tesoretto puoi pareggiare una partita senza impazzire. Il Milan ha perso solo due partite come fino alla quindicesima. Speriamo che possa portare a casa i punti contro Cremonese e contro Fiorentina per rimanere a due sconfitte, perché il Milan alla fine ne perse tre di partite lo scorso anno. Contro, ve lo ricordate, anzi quattro. Perse con Fiorentina, perse contro il Sassuolo, perse con Napoli, poi perse con lo Spezia e poi più. Dalle due alle quattro partite non si può andare oltre. Ecco ancora dei tanti giolli da giocare e eventualmente ne andasse male qualche partita. Chi giocherà contro la Cremonese? Oggi lo dirà oggi l'allenamento della vigilia. Oggi è una giornata però emozionante. Continuiamo a parlare di campionato ma poi non solo. Allenamento pomeridiano, conferenza stampa di Pimpioli alle ore 13, alle ore 13. E poi cosa succederà? Tatarusano, credo ancora Calulu, credo a sinistra obbligatorio Ballotouré, centrali Chiero-Gabbia, da vedere, da vedere, con Tomori. A centrocampo secondo me non si transige, perché con quei due giocatori si vince. Benasser e Tonali. Raramente si perde, o se si perde perché magari c'è l'arbitro Sibert, o perché sono più bravi come il Chelsea a Napoli. Attenzione. Poi là davanti? Là davanti tutto da valutare. Rebic o Leao? De Ketelare? A destra ancora Messias? Lì è inutile che io adesso cerchi di ipotizzare troppe variazioni che in questo momento, dopo il defaticante di ieri, non è possibile decifrare. Per quello che riguarda la giornata emozionante, sì, perché alle ore 12, e poi chiederemo un commento alle ore 13 a Pioli, c'è il sorteggio di Champions League. Il sorteggio di Champions League non è solo un'estrazione, e si va a vedere con chi si gioca il 14 o il 15 a San Siro, 14 o 15 febbraio 21 o 22, e quando si gioca in trasferta il 7 l'8, il 14 e il 15. No. L'avversario è importante anche, certo, per il cammino della Coppa dei Campioni della Champions League, perché in base all'avversario aumentano o diminuiscono le chance del Milan. Ma anche per il campionato, perché affrontare un avversario, diciamo, meno difficile, meno complicato, ti porta a una buona concentrazione anche in campionato, te la mantiene. Mentre vai a trovare il grandissimo avversario, sei già poco convinto magari di batterlo perché in questo momento è superiore, sto parlando di una squadra sola ma non la nominiamo, e ti può portare delle distrazioni o delle preoccupazioni così forti in campionato che ti può creare uno, scusate la parola, un po' dialettale, scombussolamento, una turbolenza per parlare più italiano, anche nel tuo cammino in Italia, per lo scudetto, per la stella. Già la sconfitta di ieri con l'Inter, dell'Inter contro la Juventus, noi che stiamo cercando di lottare, ma poi ne approfitta ovviamente magari il Napoli. Con l'Inter per la stella, e beh, adesso l'Inter è 10 punti dal Napoli e se dovesse il Milan essere così bravo ad andare a 35, visto il Bologna in casa e l'Atalanta fuori, rischia di essere ancora a 5 punti almeno, però dovrebbe vincere tutti e due. A Bergamo l'Atalanta ieri non ha giocato, anzi l'altro ieri non ha giocato una brutta partita contro il Napoli, ma pensiamo al Milan, importante arrivare a 35, poi tutto il resto non conta. Importante arrivare a 35. domani farò una diretta del sorteggio, chi scarica il link dal link in descrizione al numero 10 avrà anche ovviamente tutto sul sorteggio e domani diretta del sorteggio il commento di Stefano Pioli, saranno i video centrali della giornata importanti, vi dirò tutto e vedremo. E poi subito cosa si fa? Si va a cercare il volo low cost prima possibile per andare a Porto o a Lisbona o a Madrid. A Monaco andiamo in macchina. A Monaco in macchina, a Parigi no perché è nel nostro girone, a Londra con il Tottenham. Non nomino l'altra, la lasciamo lì, non la voglio nominare, non nominiamola, vedremo domani cosa ci dirà il sorteggio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati, attivate la campanella.